Il tuo consulante Agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto per questo fine settimana, ossia tra il 23 e il 25 di aprile. Tre attori in scena in questo fine settimana, un vortice di bassa pressione giunto dalla Spagna e che sta raggiungendo le regioni meridionali, poi un nucleo di aria fredda di origine polare che il 23 raggiungerà i Balcani per poi propagarsi anche parzialmente alle regioni adriatiche e poi alla fine arriva, l'asso piglia tutto, l'anticiccolone nordafricano che si appropria di tutta la penisola. Andiamo con ordine, allora vediamo il tempo che farà, venerdì piogge al sud e sulle isole maggiori, temperatura in rialzo al centro nord con massime intorno a 15-20 gradi sulla Valpadana, valori inferiori tra 14 e 16 gradi invece sulle regioni meridionali. Sabato 24 ancora insiste qualche pioggia al sud e sul Molise, temperatura in rialzo al centro nord, massime intorno a 20-23 gradi al nord, Toscana, Umbria e Lazio, 15-17 al sud e sulle isole maggiori e sulle regioni del medio adriatico. Domenica 25 arriva l'Africano, bel tempo ovunque come avevamo detto e quindi massime in rialzo, massime intorno a 20-24 gradi su tutta la Valpadana, su Toscana, Umbria e Lazio, 15-20 gradi sul resto dell'Italia. Termino qui un carasoletto ancora da Mario Giuliazzi.